Buon sabato per la giornata di oggi 13 luglio, io sono Doredana, sono Tizia e non clicca qui con voi per leggervi alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato. Friuli Venezia Giulia aperte le iscrizioni alla 24esima edizione del corso di scrittura creativa. Zelensky grazie all'Italia per la difesa aerea. A Busica Ivano condannati tre minorenni ex ILVA, ok, dell'Unione Europea, il prestito del ponte dei 320 milioni. La guerra è finita, il nuovo singolo della polveriera. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazione. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla nostra prossima Vini Rassegna. Loredana